Allora, se sei un professionista o una persona esperta, non guardare questo video. Però, se hai anche tu avuto problemi con il settaggio del metronomo, del click sul cellulare, quando studi canzoni lente, allora ti faccio vedere un trucchetto che ti può aiutare a seguire meglio la canzone, ad andare bene a tempo e a seguire bene il metronomo. Perché quando si tratta di tempi lenti, spesso la faccenda può essere difficile. Allora, come puoi vedere, sto utilizzando l'applicazione Tempo e ho settato un tempo molto lento. Un tempo è 30 bpm. Adesso ti faccio sentire quanto è lento. Come puoi sentire, è veramente lento. E quindi, tra un beat e il beat successivo, si fa fatica a seguire. Cioè, prendere tutto questo spazio, ok? E tenerlo a mente e riuscire a decodificare questo spazio per suonarci sopra, può essere complesso. Soprattutto se sei all'inizio. Sbagli sicuro. Quindi, come si fa? Come puoi vedere, su questa applicazione, hai la possibilità, in basso a destra, di cliccare e andare a vedere come suddividere il beat che hai impostato. In questo caso, noi stiamo a 30 bpm. E il mio consiglio è quello di andare a suddividere il più possibile, in modo tale che tu abbia, diciamo, con più facilità, meno distanza tra un beat e l'altro. Quindi le suddivisioni interne del beat. Possiamo andare intanto a vedere come viene fuori se mettiamo in ottavi, ok? La nota questa in alto a sinistra sono i quarti. Il secondo gruppo, che vi diamo due note, che sono pancia piena, gamba e taglio sopra, sono le crome, sono gli ottavi. Se metto in ottavi, sentiamo cosa succede. Ok? Ho impostato il click con una suddivisione in ottavi. Quindi ogni beat ha due pulsazioni, praticamente. Ha una pulsazione in battere ed una in levare, ok? Se voglio rendere ancora più evidente questi due suoni per capire qual è il battere e qual è il levare, in un'applicazione tipo questa, ma ce ne sono tante altre, o anche i metronomi semi-analogici, posso andare a impostare ogni beat con un accento, ok? Quindi io avrò il primo colpo di ogni pulsazione con un suono e il secondo colpo con un altro suono. Te lo faccio sentire. Ok? In questo modo sento qual è il battere e qual è il levare. Se il tempo è veramente lento, magari, che ne so, 20 di bpm o 25, cioè proprio una cosa veramente lenta e ho bisogno ancora di più suddivisione, vai a suddividere in sedicesimi, ok? Quindi in una quartina di sedicesimi. In questo modo avrai ancora più suddivisione, perché prenderai una pulsazione e ce l'avrai divisa in quattro pezzetti, ok? Levo gli accenti e ti faccio sentire. Quindi praticamente ogni quattro clic che senti è una pulsazione. Facendo in questo modo, se sei alle prime armi, come la persona che mi ha fatto questa domanda, anzi, lo ringrazio, hai la possibilità di sentire meno dilatata questa distanza e avendo meno dilatata questa distanza hai il vantaggio di riuscire a percepire meglio il tempo, a interiorizzarlo e di conseguenza a suonare più a tempo col brano o l'esercizio che stai facendo. Quindi ricordati, se stai suonando un tempo troppo lento per te, difficile da percepire, difficile da interiorizzare, in questo modo hai le sue suddivisioni, ok? Quindi ricordati di suddividere il beat quando sei a tempi lenti e se hai altre domande scrivile pure nei commenti. Ci vediamo alla prossima, ciao!